Una buona giornata dalla redazione di ETV, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG che come sempre potete seguire in televisione sul canale 12, ma ci trovate in contemporanea anche in streaming sul nostro sito www.etvmarche.it e poi ovviamente sulla nostra pagina Facebook e sull'app di ETV in primo piano ovviamente l'alluvione perché si è appena svolto il Consiglio dei Ministri che ha deliberato lo stato di emergenza anche per le Marche, oltre che per l'Emilia Romagna, colpite dal maltempo dei giorni scorsi. Per la nostra regione sono stati stanziati in particolare 4 milioni di euro. Ha dato l'annuncio poco fa su Facebook il governatore appunto della nostra regione Francesco Acquaroli. Il provvedimento ricordiamo riguarda le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlice, Siena e Rimini per quanto riguarda l'Emilia Romagna, mentre tutte le province sono ricomprese per quanto riguarda le Marche. Lo stato di emergenza durerà in particolare 12 mesi. E lunedì prossimo i sindaci degli 85 comuni marchigiani che hanno aperto i centri operativi comunali durante le giornate più critiche si ritroveranno proprio in regione per un'analisi preliminare della situazione. Dentro venerdì della prossima settimana è attesa una prima stima dei danni subiti. Sono stati in particolare poi quasi mille gli interventi dei vigili del fuoco nella nostra regione in questi giorni. si è lavorato per liberare strade, case, locali e il problema non arriva solo da acqua e fango ma anche dalle numerose frane che sono avvenute sul nostro territorio. La più colpita in particolare la città di Ancona, soprattutto le sue frazioni. Allora vediamo. Stanotte mi sono alzata alle tre, ho aperto la finestra, non ho visto più... Era venuto giù tutto. Roberto abita a Monte Sicuro di Ancona in via Fornaci. Qui la strada praticamente non esiste più. Tante piccole frane già nei giorni scorsi avevano reso quasi impossibile il passaggio. Poi nelle scorse ore è venuto giù tutto. Continuava a venire giù, si muoveva, addirittura qualcuno ha rischiato di rimanere letteralmente seppellito. Stanotte avevamo spalato, pronti per uscire di casa, ma ci siamo ritrovati altri metri cubi perché appunto è rivenuto giù. Ha finito di venire giù il monte fondamentalmente. La cosa più brutta è vedere proprio tutta la parte della terra che è completamente scesa, vedi tutta la parte vuota, senza un albero, senza niente. È stato tutto sradicato dalla forza dell'acqua. E com'è insomma la situazione lì? La situazione sono senza luce, senza acqua e ovviamente completamente isolati perché la strada è piena di terra in più punti. Dopo il crollo della montagna via Fornaci è completamente isolata, nessun veicolo può transitare, si passa solo a piedi dai campi in mezzo al fango. Si passa qua dove sono passato io adesso? Poi bisogna tagliare giù per il campo, pollaio della signora e poi si va giù le altre quattro famiglie. Eppure, dicono gli abitanti, alla fine è andata bene. Le case, quando abbiamo visto che le case non sono state toccate, le persone non sono state toccate, mi hanno detto grazie signore, tutto a posto. E salva per un pelo anche la casa di Alessandro, sempre a Montesicuro, lungo una delle vie principali di accesso al paese chiusa a causa del crollo di un albero secolare. Salva sì, ma solo per il momento, racconta Alessandro. Alessandro, a Monteluna ha piovuto molto, è caduta molta più acqua nei giorni scorsi, ieri c'era già stata una piccola franetta e adesso è venuta giù tutta questa quercia qua, che è comunque una quercia secolare. La casa per fortuna era in salvo perché non è stata toccata dalla frana. Ecco, se andiamo avanti così, però se il greppo non ha qualche intervento, purtroppo prima o poi il passaggio è vitale perché poi c'è la casa di riposo, comunque in paese sono tante persone anziane. Da qua verso Sappanico era tutto chiuso. Paterno, Sappanico e Montesicuro, le frazioni più colpite dall'alluvione, le maggiori criticità proprio in quest'ultima, dove diverse famiglie, almeno una ventina di persone in tutto, dovranno essere evacuate. Alcune pareti che abbiamo visto e alcune situazioni di alcune strade vicinali non ci fanno stare tranquilli, qui chiederemo e metteremo a disposizione sistemazioni ed alloggi o presso strutture alberghiere per muovere e spostare coloro che si trovano in condizioni di particolare criticità, perché ci sono alcune frazioni, soprattutto alcune parti delle frazioni che sono oggetto adesso di lavori di messa in sicurezza. I danni sono importanti, chiaramente andranno quantificati, questo ci imporrà di chiedere alla Regione lo stato di emergenza. In attesa della dichiarazione dello stato di emergenza, già previsti dal Comune i primi stanziamenti. Il Comune di Ancona, sicuramente, il fondo di riserva, prevederemo più o meno 200 mila euro da stanziare per le prime opere. La conta dei danni sarà ingente anche nel Pesarese. Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha parlato di almeno 400 mila euro di danni. Circa la metà in particolare riguarda la strada dell'Angelo Custode, danni rilevanti però anche sulla strada provinciale del San Bartolo. sotto Castel di Mezzo a causa di una frana e frane anche sulla strada statale 16 sotto Villa Caprile e la strada del Monte Feltro, oltre che in numerose strade secondarie della città. Da qui anche da parte di Biancani la richiesta di supporto alla Regione. E i danni ingenti riguardano anche soprattutto le attività produttive che si sono ritrovate con i magazzini sott'acqua e le merci coperte dal fango completamente da buttare. Allora noi abbiamo fatto il punto proprio sui danni alle attività economiche produttive con il segretario di confartigianato Ancona, Pesaro Urbino Pierpaoli. Ci stiamo coordinando con l'amministrazione comunale e con la Regione al fine che i nostri imprenditori possano fare una mappatura dei danni, la raccomandazione di non buttarvi a nulla, di fare fotografie ai fini di poter dimostrare quelli che poi sono effettivamente i danni procurati. Continua la conta dei danni da parte delle decine di imprese messe in ginocchio nella provincia di Ancona dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio lo scorso 19 settembre. Una mappatura che racconta il segretario di confartigianato Imprese Ancona, Pesaro Urbino, parla di un disastro a macchia di leopardo non solo perché interessa più comuni, ma anche perché diverse sono state le cause che hanno nascato l'onda di acqua e fango. A riportare danni ingentissimi soprattutto i comuni di Falconara, specialmente nell'area di Castelferretti, Numana, la zona baracola di Ancona e di Osimo Stazione. Molto complessa la situazione a Falconara-Castelferretti, in maniera anche sorprendente perché è un territorio che comunque ha vissuto negli anni interventi per mitigare questo rischio alluvione, il più grave, ce lo ricordiamo, nel 2006, le nostre imprese sono fortemente colpite. Altra situazione complessa l'abbiamo sulla zona dell'Aspio che ieri ha vissuto questa esondazione di questo torrente che già nel 2006 aveva procurato tanti danni evidenti. Rispetto al 2006 la dinamica è differente, anche qui stiamo provvedendo all'ammapatura dei danni. Poi abbiamo la zona di Numana, di Marcelli, dove l'amministrazione comunale sta provvedendo alla messa in sicurezza. Ci sono già dei sindaci che hanno detto di voler richiedere lo stato d'emergenza, ovviamente sarà indispensabile anche per poter ripartire? Assolutamente sì, vedo che c'è un coordinamento e quindi i tempi sono quelli di cercare subito di avere una mappatura, di avere dei contributi per cercare di far ripartire le imprese e le persone. E per stare vicini a famiglie e imprese e sostenerle anche per quanto riguarda il risarcimento dei danni, ha ripreso vita Osimo il comitato 16 settembre nato dopo l'alluvione di 18 anni fa. Sentiamo. In non più di dieci minuti praticamente sono arrivati al livello della strada. Forse l'evento sarà stato pure eccezionale, ma ormai bisogna mettere in conto che l'eccezionalità sta diventando la regola. 16 settembre 2006, 19 settembre 2024, 18 anni dopo Osimo e Laspio di nuovo sott'acqua, famiglie e aziende di nuovo in ginocchio e questo non sarebbe più dovuto avvenire. Il comitato 16 settembre, creato proprio dopo quella terribile alluvione, aveva lottato per questo. Sono passati 18 anni e ad oggi ancora siamo qui a lamentarci dei danni dell'alluvione qui ad Osimo stazione. Il comitato 16 settembre, quella volta, venne costituito proprio per aiutare la popolazione e le imprese a ripartire da una situazione emergenziale. Ad oggi purtroppo ci ritroviamo qui a lamentarci, nonostante il comitato portò nella zona oltre 15 milioni di euro che sono serviti per realizzare opere infrastrutturali. E ad oggi queste opere in parte sono state realizzate. Domanda, perché ancora non è stato finito il progetto? Erano dei fondi che erano stati stanziati per la creazione di vasche di espansione. Dovrebbero essere sei. In tre lotti da realizzare, tre lotti da due vasche ciascuno, ne è stata realizzata soltanto una nella zona sud di Osimo stazione. E in quella zona appunto non si sono registrati danni di nessun tipo. E le altre vasche che fino hanno fatto? Le altre vasche ce le chiediamo anche noi. Non si sa dove siano finite. Sono stati fatti due ponti in acciaio, ma dei veri lavori in realtà non ce ne sono. Da qui la decisione di ridare vita al comitato per aiutare i nuovi alluvionati e far sì che non ci sia, stavolta, una prossima volta. Abbiamo pensato di organizzare per la settimana prossima un incontro alla bocciofila qui di Osimo stazione proprio per raccordarci, sentire cosa dice la gente e dare una prima risposta e un aiuto alle tante domande che vengono dalla popolazione. Io sono passato all'Aspio, siamo venuti qui ad Osimo stazione, nelle parti di Osimo e ci siamo accorti che purtroppo la problematica è sempre quella. Abbiamo l'Aspio che è un affluente diretto e il problema dello scarica l'asino che non riesce a scaricare le proprie acque all'interno dell'Aspio. Questa problematica esiste da 18 anni. Io chiedo alle istituzioni quanto ancora bisogna attendere? Cambiamo decisamente argomento dal 4 al 6 ottobre la settima edizione di Marche Trail. Roberto Properzi Benvenuti nelle Marche, il turismo in sella, non una vera e propria gara ma una sfida con se stessi, un viaggio di tre giorni in bikepacking dove i bagagli sono agganciati direttamente alla bicicletta con speciali borse, immersi nella natura, alla scoperta delle bellezze del territorio. Un'avventura sostenibile e leggera con il minimo indispensabile dal mare alla montagna, attraversando strade bianche sterrate, vicoli dei borghi medievali e gustando tipicità, in due parole, Marche Trail. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Marche Bikepacking, si svolgerà dal 4 al 6 ottobre e toccherà ben quattro province, Fermo, Ascoli, Piceno, Macerata ed Ancona, tanti comuni coinvolti da Torre di Palme a Offida, da Ascoli a Sarnano, da Pintura di Bolognola, il punto più alto a Matelica, da Macerata, passando per Civitanova a Porto Sant'Elpedio. Protagonisti anche i comuni di Comunanza e San Severino Marche, come campi base che hanno messo a disposizione una struttura sportiva per il pernottamento, le iscrizioni già contano 500 partecipanti iscritti da tutta Europa e anche qualche temerario dagli Stati Uniti. Novità della settima edizione è il Giro ad Anello, Rying Edition, con la scelta di tre percorsi Wild, Classic e Short. Una manifestazione tra le più apprezzate a livello nazionale, non a caso lo scorso novembre il Market Trail è stato premiato a Milano come Best Trail 2023. Appuntamento al primo weekend di ottobre, quindi sport e turismo in un'esperienza indimenticabile che resterà per tutta la vita. Ed era questo il nostro ultimo servizio, io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio in compagnia dei nostri programmi.